Buongiorno a tutti e auguri buon anno. L'associazione Aubam Onlus di Bustassizio ricorda a tutti gli interessati e anche le persone che sono veramente alla ricerca di qualcosa di diverso, di regali futili. Facciamo la raccolta di tutta la documentazione per poter avere i bambini di Chernobyl 5 settimane tra giugno e luglio. La data è il 23 gennaio 2019, dalle ore 16 alle ore 20 presso l'oratorio del Redentore di Bustassizio. In quella data e in quegli orari tutti potranno venire a chiedere anche solamente informazioni dettagliate su come si svolge il periodo di permanenza dei bambini di Chernobyl.